Ma da che tu non puoi liberarti di me così? Dopo avermi preso come tu mi hai preso! Io ho preso? Sì! E tu ti sei lasciato prendere? Avresti dovuto guardartene? Sì, in un certo senso è vero, io ti ho preso, ma tu mi hai ingannata! Ti avevo preso soltanto come un buffone e ti sei rivelato insoffribile! Insoffribile! Perché tu non vuoi avere un po' di pietà per me? Coraggio di dirlo! Di pietà mi ha avuta e tanta! E tua figlia ne è testimonia! Sa, uno scrittore di fama... Ti proibisco di parlare così di me! E tu perché metti sempre davanti la tua vita distrutta? Perché io voglio che tu abbia paura! Se davvero ora pensi di liberarti così di me! Io ho paura? Paura sì! Io non ne ho mai avute di queste paure! E ora devi averla!